Ad un mese dall'insediamento, Francesco Guccini, assessore comunale alle attività produttive, ha convocato una conferenza stampa per illustrare alcuni punti del suo programma a breve e medio termine. Gli obiettivi sono quelli che ho naturalmente nel mio mandato, cioè le attività produttive, agro, agricoltura, piano del commercio, polizia municipale, piano del traffico. Quindi direi che ce n'è abbastanza e abbastanza da fare. La prima cosa che ho voluto fare e che continuerò a fare sarà quella di ascoltare naturalmente i cittadini, perché io credo che proprio dall'ascolto possano nascere anche la soluzione dei problemi. Naturalmente io ci metterò le mie idee, convinto come sono che dalle idee si debba e si possa ripartire. La mia intenzione è quella, ad esempio, di riportare tutti i mercati presenti in città nella piazza deputata, cioè quella di piazza Mameli, dove già c'è una struttura mercatale attorno alla quale vorrei appunto riconsegnare ai nuoresi un mercato, dialogare naturalmente con la zona industriale, che purtroppo vive un momento drammatico da quando c'è stato il riordino dei consorzi e questo non è giunto a compimento. Parlare con quelle che sono i centri commerciali naturali, coinvolgendo anche le periferie commerciali. In questo naturalmente intervenendo in quello che è anche agro e agricoltura, cercando di creare un distretto rurale nuorese, valorizzando i prodotti dell'artigianato fino ad arrivare a quello che è un progetto anche per alcuni versi ambizioso, ma quello di creare un DOP nuorese, cioè un marchio che identifichi i prodotti nuoresi. Stiamo studiando il sistema migliore per arrivare a considerare la ZTL del Corso Garibaldi un'unica, diciamo tra virgolette, un'unica ZTL o comunque salvaguardare gli automobilisti dalla possibilità che chi transiti per il Corso Garibaldi oggi abbia più di una multa. Per quanto riguarda poi il resto, la massima attenzione sarà sempre sul versante della viabilità per i posteggi delle persone diversamente abili e insomma comunque uno studio che verifichi puntualmente quella che è la segnaletica, soprattutto orizzontale in questo caso, della città. Quello che vorrei che avvenisse è la mia porta aperta, quella dell'assessorato, quindi io non ho bisogno, non ricevo per appuntamento, chiunque vuole può venire portare proposte concrete per il bene di questa città, io ascolto chiunque convinto come sono che dalla politica dell'ascolto possa nascere qualcosa di buono.